Dai diamanti non nasce niente dall'età me nascono i fiori, lo cantava Fabrizio De Andrè e voi al liceo avete trasformato delle vecchie macerie in un'opera artistica nella pietra filosofale, un bel progetto professore. È un lavoro di make up, è un lavoro sempre sulla scia del riciclo totale, quindi alla fine noi non abbiamo bisogno di grandi investimenti o di grandi costruzioni, quello che abbiamo lo possiamo reinventare, ricontestualizzare, questo è il messaggio. La pietra filosofale è la leggenda della pietra non nobile trasformata in oro, quindi c'è anche un messaggio, c'è anche una metafora, ma se vogliamo chiudere tutto in una sola frase è la conoscenza, la metafora è sulla conoscenza, sull'istruzione che è l'unica vera ricchezza dei popoli oggi. Sicuramente per loro è importante avviarsi anche all'arte contemporanea, perché questi sono esempi di arte contemporanea, quindi assolutamente i ragazzi felicissimi, non vedevano l'ora di iniziare e oggi ci ha permesso per un paio d'ore di poterlo fare.